oggi con la mia ila vado ad aspirare tutta la casa pronti via naturalmente la apriamo così in questa maniera qua andiamo a prendere il nostro secchietto lo riempiamo d'acqua fino al livello aggiungiamo olio essenziale di lavanda con gicetto l'aiutante andiamo ad inserire il nostro così mettiamo il corpo motore chiudiamo in sicurezza adesso nel mio angolo delle meraviglie ci sono tutti gli accessori della mia ila vado a prendere quello che mi serve la spazzoletta questa qua andiamo ad inserire il nostro tubo nell'apposito vano così accendiamo allora adesso vado a pulire il parquet quindi metto la spazzolina che così questa qua non mi graffa più il parquet la volta finito di aspirare io ho i cani ragazzi andiamo a togliere la scultura così andiamo a aprire così e questo è tutto quello che troviamo nella nostra casa adesso io prendo il mio secchiello così lo vado a rovesciare nel mio latte guardate qua guardate adesso lo sciacquo ed è pronto per il mio l'opera a rovesciare nel mio club Grazie.